Alessio, credo di dire, ha ragione che Dino Grandi è uno di quei ruoli della vita che rimangono dentro. Hai fatto tanti personaggi storici, ma questo forse ha un'importanza anche sociale maggiore di quelli che hai già fatto. Sei d'accordo? Ma sì, sicuramente. Nel senso che ho letto la sceneggiatura quando me l'ha proposta Campiotti e abbiamo analizzato un po' il tutto. Non essendo una geografia, che io detesto le geografie, mi sembrava veramente importante perché è un periodo storico che viene sviscerato poco. Sì, si raccontano un po' in grandi linee, si studia anche sui banchi di scuola, poi però i periodi proprio specifici del momento e il cavillo del perché è avvenuta per esempio in questo caso la lunga notte che è appunto l'ordine del giorno grande nel Gran Consiglio che destituisce Mussolini, non tutti sanno, ma vediamo queste quattro famiglie con tradimenti, con angherie, prima di questa grande lunga notte. Mussolini pensa di essere onnipotente, il re con i suoi inciuci, di non grandi con la sua famiglia, i Savoia. E tutto questo esce fuori ed è un'Italia che al macero ci sono sempre i soldati, i ragazzi, le persone. E questi signori che giocano a golf, si permettono anche di andare a caccia per quagli, eccetera, tiravano alle fiere di questi poveretti. Quindi vedi proprio questa dicotomia, non c'è nessun eroe qua, cioè questi fanno solamente il proprio gioco, tirano l'acqua al proprio mulino, cercano di salvare la pelle. Certo, si può riconoscere un coraggio a Dino Grande che affronta un Mussolini e incrina il fascismo dopo vent'anni, questo sì, ma poi sono tutti interessi personali. Se, per esempio, la Germania fosse stata vittoriosa, col cavolo, e ci fosse stata questa cosa, col cavolo che si sarebbero alleati agli angolo americani, col cavolo che si sarebbe fatta la riunione del Gran Consiglio. Quindi mi sembrava importante metterlo sulla TV di Stato e far riconoscere certi sbagli per non poterli rifare, perché veramente lì ci sono stati dei grandissimi errori. Non parliamo del re, non vogliamo andare avanti. Senti, dato che ci sono stati dei fatti molto gravi anche nella contemporaneità relativi al fascismo, pensi che una serie come questa che insegna la storia sia utile soprattutto ai più giovani per invitarli a comprendere magari una parte della storia che non conoscono e che sui libri forse non è approfondita? È quello per cui ho deciso di fare questo personaggio. Poi certo che la gente dice, ma egli ammete umanizzate, ma è normale, se no facciamo un documentario alla Paolo Mieli che è meraviglioso, vedete il documentario di Dino Grande di Paolo Mieli, è meraviglioso, capisci tutto quanto storicamente. Ma noi abbiamo fatto una serie, quindi ovviamente entri nelle famiglie e le umanizzi, ma umanizzandoli li porti più vicini alla gente e fai capire gli errori anche nel contesto di una guerra, anche nel contesto di una situazione molto, molto tesa come nel 1943, durante appunto la Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi stavano perdendo gli errori di Mussolini, gli angloamericani erano sbarcati in Sicilia, eccetera. a far capire al ragazzo di oggi che magari si annoia anche sui libri, leggere quei quattro tomi e non capisce il cavilo, tutta la situazione. E se solamente segue anche solo il pensiero, il percorso di uno di questi protagonisti, magari riesce a capire meglio la storia. Se capisci meglio la storia, capisci meglio chi sei. Se capisci meglio chi sei e dove sei, riesci a prendere anche delle decisioni per il tuo futuro in un modo diverso, perché bisogna capire da dove veniamo, chi siamo.